Buongiorno, dobro jutro, guten morgen, buon Dio. Il coronavirus non si fa capire un'e roba che la nostra vita è sempre in pericolo. Già prima c'era questa situazione lì, ma no, non si è mai a vedere se a camminare tra l'arc, invece non si è a camminare sempre su loro. Buon, di queste roba lì ho potuto capire che la vita è come che ho potuto perdere ogni momento, non si è andato ogni momento, di modo che ho avuto un senso di riconoscenza. C'è quello che non si dà. E allora, si può dare spavio in ora a queste preghiere? Signor, grazie che sei sveato, grazie che tu mi dasi la vita. Vi odmò, tutto mi dasi, io la chiappi volentieri, io la conservi e la doprarai, mi ricordo poi. Di altre bande? se sei sano o se sei malato in queste vite, tu devi anche tu di me. Buona giornata e buona vita. Grazie. 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 Grazie.